Ben ritrovati, è un appuntamento particolare quello di incontro con perché parliamo di un evento spettacolare che si svolge nella nostra provincia ed è il Giro d'Italia. In studio ho due ospiti che possono a ragione parlare di questo avvenimento, il sindaco di Feltre Paolo Perenzin e un rappresentante del comitato di tappa che andrà a parte. Entrambi possiamo sviscerare un pochino quelli che sono i molti appuntamenti che sono stati creati. Innanzitutto il sindaco di Feltre Perenzin è una bella carta da giocarsi nell'ambito turistico. Assolutamente sì, sarà un evento storico per noi, per il territorio e il Giro d'Italia di per sé si porta dietro poi una ricaduta in termini di visibilità importantissima e le tantissime persone che verranno qui si ricorderanno un territorio e per questo voglio subito ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a fare squadra perché questo evento sia arrivato innanzitutto e quindi in particolar modo Manifattura Valcismon, Famiglia Cremonese, Sportful e il Pedale Feltrino e il suo presidente per tutti Ivan Piol che da tempo organizza la Gran Fondo su questi tratti ma anche tutti gli operatori del settore, in particolar modo qui il consorzio Dolomiti Prealpi con il supporto della DMO perché questi soggetti in particolare da tempo stanno lavorando perché il Giro arrivi e soprattutto perché poi abbia una ricaduta e rimanga. Su questo noi come istituzioni abbiamo cercato da subito di fare squadra, di metterci a disposizione per quello che potevamo e per cui ringrazio tutti i comuni della provincia. Saranno tre giorni in rosa perché c'è un primo passaggio che interesserà il cadore e il pago il 30, il 31 tutta la Val Belluna e il Feltrino per arrivare poi a San Martino ma soprattutto poi la grandissima tappa del primo di giugno per cui comuni e provincia che si sono veramente dati a fare e ovviamente la regione del Veneto. Naturalmente tutto questo testimonia a parte di che è difficile non tenere in considerazione quando si parla di ciclismo la provincia di Belluno ha viste le molte belle strade che si possono percorrere. La provincia di Belluno si presta tantissimo al ciclismo, è una provincia che ha un po' di tutto, alla pianura, alla montagna, è un po' il regno del ciclismo. Noi come Comitato Tappa ci teniamo particolarmente a un evento eccezionale come ha ricordato anche il sindaco di Feltrino prima quindi è veramente una cosa unica penso per il territorio feltrino e bellunese. Ecco a proposito della sottolineatura Feltrino perché si è ricavato un po' di spazio in più proprio del Feltrino con il museo della bicicletta ma poi ci sono tutte queste manifestazioni la 24 ore, la Gran Fondo, siete terra di ciclisti? Siamo terra di ciclisti, io personalmente faccio parte proprio del comitato organizzatore anche della Gran Fondo e della 24 ore nonché anche direttore di corsa di entrambe le manifestazioni quindi da 25 anni che la portiamo avanti e per noi questo è un sogno che si realizza veramente perché 25 anni fa l'abbiamo creata, adesso avere una tappa del Giro d'Italia che viene e si disputa sul percorso nostro è veramente un'enorme soddisfazione. Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche si gioca una buona carta per promuovere il cicloturismo su quale molto si scommette e peraltro i fondi sono stati investiti proprio in questa direzione. Sì, diciamo che l'idea di investire sul cicloturismo è maturata negli ultimi anni perché abbiamo scoperto di avere un territorio provinciale che si presta alla perfezione e in particolare proprio il territorio della Val Belluna, su questo abbiamo fatto un percorso anche con il consorzio BIM e la Vallata che ringrazio, qualche anno fa abbiamo messo a punto una strategia denominata Val Belluna Cycling e ci siamo resi conto che abbiamo un vero paradiso e per cui abbiamo iniziato in maniera sistematica a far confluire tutti quanti gli investimenti nel tempo per infrastrutturare il territorio, quindi creare una serie di percorsi ciclabili, ciclopedonali ma lo scatto che dovremo fare nei prossimi mesi, nei prossimi anni sarà anche quello proprio di arrivare fino alla creazione del prodotto turistico perché in realtà la maggior parte delle strade che abbiamo noi non serve che siano piste ciclabili uno viene qui con la sua bici e gira in un territorio che è spettacolare. Anche nelle varie discipline perché un conto è andare su strada, un conto è utilizzare la mountain bike oppure le e-bike che permettono di raggiungere adesso un sacco di posti prima difficilmente raggiungibili quindi si aprono anche prospettive interessanti per coloro che sono addentro alla ricezione turistica. Assolutamente sì, questo è il motivo per cui il cicloturismo ci dà veramente un'indicazione di forza per come andare avanti perché si va a ragionare sulla specificità del nostro territorio il ciclismo, il cicloturismo è un modo di penetrazione lenta del territorio quindi si sposa alla perfezione con un paesaggio che abbiamo la fortuna di avere conservato che è il nostro, che è nell'ambito di Dolomiti Unesco, Feltre ricordiamo che è sede del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e i percorsi che ci sono sono veramente mozzafiato. Una tipologia in particolare di cicloturismo che potrà sfondare da noi sarà il gravel cioè quel misto di bici che somiglia un po' a una bici da corsa ma con le ruote e le gomme un po' più grosse che è ideale per fare per esempio sterrati, per fare salite, discese e da noi veramente il territorio si presta. Ora bisognerà lavorare molto con le indicazioni. Sì, quello fa parte assolutamente fondamentale del territorio anche se devo dire la verità che sempre più spesso ormai i ciclisti, i cicloturisti sono quasi direi professionisti di quel tipo di turismo e si arrangiano moltissimo per esempio col GPS, con le tracce se le scaricano arrivano anche da molto lontano e sono in grado di vedere prima da casa i percorsi. A metà luglio, questo è un altro evento che è nuovo quest'anno, arriverà su Feltre il Tour de France che è una tappa, una corsa transnazionale in bicicletta limitata a 500 persone ma che porterà 500 stranieri tra virgolette su Feltre, tedeschi, inglesi, australiani e questo sarà fondamentale. Se non di fatto la sua pronuncia ma la mia capacità di comprensione Frenti si intende amici. Amici, 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 amici. Lei fa parte del comitato di tappa, ma quanti sono i membri? Allora il comitato di tappa è formato circa da una ventina di persone in generale ma in generale sì, allora diciamo che ci sono dei compiti specifici e dopo dei compiti istituzionali. il comitato di tappa si forma già otto mesi prima perché logicamente da quando si ha l'ufficialità della tappa perché bisogna aspettare anche di avere giustamente l'ufficialità della tappa si va a creare un comitato tappa con delle persone che hanno delle competenze specifiche in alcuni ruoli io per esempio ho la parte dell'open village riguardante l'open village che tradotto sarebbe? che è la parte commerciale che gli sponsor del Giro d'Italia vanno a creare all'arrivo, in sede d'arrivo della tappa abbiamo delle immagini anche qui c'è ecco, in sede d'arrivo e la tappa ed è la parte commerciale del Giro d'Italia dopo c'è un responsabile della partenza, un responsabile dell'arrivo e dopo tutti quanti le altre figure Cominciate sei, sette, otto mesi prima ma una volta finita la gara finisce lì il vostro impegno oppure rimane qualcosa, ci sono da sbrigare altre pratiche? Beh qualcosa logicamente rimane sempre dopo però logicamente fatta la tappa, il grosso è stato fatto dopodiché non rimane tanto dopo da fare e il comitato tappa dopo va a finire una volta esaurito anche il Giro d'Italia Molte delle iniziative, è un po' difficile fare una sintesi perché è un lavoro pazzesco quello che viene portato avanti per quanto riguarda l'amministrazione è stato di sollecito questo appuntamento per mettere a posto ad esempio le strade perché una delle caratteristiche è che devono essere in perfetto stato per la sicurezza soprattutto perché il transito e la partenza del sabato si possa svolgere nelle condizioni migliori senza rischiare neanche l'ombra dell'incidente ovviamente il lavoro sulla logistica è importante sia dal punto di vista infrastrutturale che dal punto di vista di quello che ci sta attorno ci dava adesso Andrea il responsabile di partenza ancora veramente il piacere di ringraziare Gian Piero Slongo e la sua organizzazione Il Giro delle Mura che per quanto riguarda la partenza dà supporto al Comune di Feltre perché la logistica della partenza sia a posto e curata nei dettagli dagli arrivi alle aree di parcheggio ai flussi veicolari ai volontari dislocati sul percorso perché spieghino alle persone come muoversi poi c'è la parte infrastrutturale ovviamente noi abbiamo fatto lo sforzo massimo come amministrazione perché le strade fossero sistemate perché la città si presenti nella miglior forma possibile anche proprio dal punto di vista della cura del verde dei fiori, del decoro e ringrazio su questo il settore di gestione del territorio nostro che sta facendo uno sforzo importante dico anche che lo sforzo quest'anno è stato raddoppiato abbiamo deciso poi anche di concentrarlo in particolare vista l'occasione della tappa ricordiamoci che siamo stato un territorio e un Comune in Feltre in particolare particolarmente battuto e provato dalla tempesta Vaglia di fine ottobre tanto per dire insomma tutta la parte dal monumento alla culiada era stata fortemente danneggiata dagli schianti e delle alberature perché portandosi dietro le cepaie avevano mangiato e completamente eroso l'asfalto in prossimità della banchina e qui è stato fatto un lavoro importante sia da parte del Comune che da parte di Anas che da parte di Veneto Strade siamo riusciti insieme a intervenire e oggi insomma diciamo che la città è pronta e è pronta nonostante abbiamo avuto 45-47 giorni di pioggia interrotta che sicuramente non hanno aiutato come dire nella logistica dei lavorazioni da fare ma ho la fortuna di contare su un'ottima struttura e un ottimo assessore sarà infatti messa sottolineata questa capacità di reagire alle difficoltà sia con Vaia ma soprattutto con questo tempo che poco ha permesso forse una cosa che mi è rimasto nel cuore l'ho conservato a casa il titolone della Gazzetta dello Sport due giorni dopo del giorno dopo Vaia il titolo di pagina principale era non pedalerete mai soli era appena stato deciso di dare la tappa a Feltre e al territorio Feltrino e pochi giorni dopo è arrivata proprio Vaia questo titolone per me è stato una cosa incredibile è stato un sopralluogo di Cassani di Macagnan bellissimo veramente ringrazio perché questo fa vedere come anche un evento sportivo come il Giro d'Italia che non è solo sport è molto di più a storia del nostro paese possa dare manforte ai territori per rialzarsi anche se succede qualcosa magari di difficile per esempio che il vostro comitato tappa sarebbe il COC il centro operativo comunale dove si concentrano tutte le forze verrà attivato il COM dalla prefettura perché ovviamente l'evento interessa tutto quanto territorio che sarebbe il centro operativo misto il centro operativo misto il quale avrà il compito di coordinare tutti i centri operativi comunali che verranno attivati nei comuni interessati ovviamente Feltre è partenza ma per Avena è arrivo Sovramonte è passaggio ma come Fonzaso come Arsie come Serena del Grappa per cui ovviamente stiamo facendo insieme il massimo sforzo ci vuole una bella organizzazione con tutti gli enti per quanto riguarda la viabilità il comitato tappa chiaramente deve stabilire solamente le tempistiche o siete anche operativi sulla chiusura delle strade? Allora noi diamo sicuramente diamo delle indicazioni e questo le abbiamo anche date nelle unioni fatte in questura precedentemente dopodiché la questura raccoglie un po' tutti questi dati e dà dopo delle indicazioni alla prefettura che metterà dopo un'ordinanza di chiusura delle varie strade dopodiché tutte le forze dell'ordine si attiveranno perché di gente ce ne sarà tanta anche perché bisogna pensare a ricevere i ciclisti e quindi l'organizzazione ma anche i molti tifosi sono due rami differi esatto tifosi poi se siamo come ho visto le previsioni che sembrano abbastanza buone per conto mio ci sarà veramente tanta ma tanta gente ma non solo il sabato anche il venerdì perché abbiamo il passaggio della tappa del venerdì quindi molta gente andrà già sul monte Avena il venerdì scenderanno per vedere la tappa che transita per andare a San Martino e dopo ritorneranno su per il sabato quindi ci sarà veramente un grande affollamento in questo caso perché abbiamo parlato del COC sono dei centri di raccolta a quali poter fare riferimento lì saranno sicuramente attivati e avranno loro bel da fare qui il tempo corre talmente veloce che mi trovo anche un po' impreparato Notte Rosa che è un classico di queste gare quando arrivano è una doppia Notte Rosa sì le iniziative sono queste per cercare di fare la sintesi per quanto riguarda Feltre e Feltrino passaggio della tappa il venerdì 31 diciamo dalle 15.30 in poi subito dopo il passaggio a Feltre e nei vari comuni attivazione della Notte Rosa per Feltre in particolare vuol dire musica vuol dire street food vuol dire negozi aperti vuol dire possibilità di stare piacevolmente in centro insieme contemporaneamente questo riguarderà la città contemporaneamente il venerdì sera ci sarà anche la cena di gala al Palaghiaccio che avrà una bella anticipazione il giovedì sera su un'iniziativa di Sportful in Piazza Maggiore poi partita la tappa il sabato mattina quindi indicativamente dopo le 11 rimarremo ancora in modalità Notte Rosa e perché? perché ovviamente ci aspettiamo che ci sia veramente tantissima gente che arriva e immaginiamo vorremmo che fosse così sarebbe bello che i tifosi quando sarà arrivata la tappa quindi indicativamente insomma dopo le 18 le 19 dopo il processo la tappa prima di tornare a casa riescano a ritornare nei nostri paesi e fermarsi e infatti l'invito è veramente generalizzato mi sento di farlo anche a nome dei colleghi del territorio feltrino perché iniziative di questo genere sono a Feltre ma sono a Pedavena sono a Fonzaso sono in Campon in Sovramonte ce ne sarà veramente per tutti i gusti e siccome attendiamo davvero tante tante persone ci sarà soltanto un clima di festa generalizzato e sono veramente convinto che così sarà anche per dare soddisfazione ai molti artigiani e commercianti che hanno abbellito le loro vetrine assolutamente per quanto riguarda Feltre ringrazio in particolare il comitato Feltre DOP che riunisce i commercianti feltrini che è un po' l'anima di queste iniziative ma tutti veramente tutti tantissimi volontari le persone che parteciperanno da protagonisti a questo giro L'aveva detto di parte di che è anche una ricorrenza particolare c'è un venticinquesimo Sì un venticinquesimo importante per noi che sarà presentato durante la cena di gala che faremo appunto il venerdì sera ci sarà la presentazione della 25 anni della Gran Fondo SportFund Olimity Race nata come Gran Fondo Campagnolo a suo tempo come dicevo per noi è una soddisfazione enorme cioè dopo 25 anni vedere appunto una tappa del Giro d'Italia che ripercorre le stesse strade che abbiamo trovato noi che abbiamo pensato a suo tempo è veramente un'enorme soddisfazione per noi ma per tutto anche il Feltrino per tutto quanto per tutta la provincia perché qui abbiamo corridori che arrivano da diversi paesi abbiamo quasi oltre 4.000 già iscritti adesso quindi noi speriamo che anche il Giro d'Italia dia quell'input in più ancora perché arrivino ancora tanti altri ciclisti per partecipare alla nostra Gran Fondo Poi lei aveva detto una cosa poi passiamo subito e vedo una cosa curiosa che generalmente sono le corse di questo tipo che prendono spunto dal Giro d'Italia e qui invece è successo il contrario è successo il contrario di fatti molte Gran Fondo prendono spunto dalle tappe del Giro d'Italia questa volta invece il Giro d'Italia che prende lo spunto da noi prego vediamo le immagini sono un'impressione bellissima finché parlava Andrea le immagini del Mangen che è il lupo del Mangen nella Gran Fondo Sportful è veramente è successa una cosa che è le cilisine sulla torta peccato per gli organizzatori di là ma con la scusa che non si corre il Gavia quest'anno Cima Coppi sarà sul passo Mangen per cui chi poi verrà a fare la Gran Fondo Sportful a metà giugno saprà che potrà confrontarsi da buon ciclista con i professionisti che avranno disputato addirittura sul Mangen Cima Coppi quindi la cima del Giro una ciliegina in più diciamo diciamo che dopo tanta paura per vaia per la pioggia qualche soddisfazione deve arrivare per farci una compensazione diciamo senta l'importanza delle e-bike nel movimento ciclistico aiuta o depista no aiuta sicuramente è una è una nuova tecnologia che ormai molte ditte portano avanti le e-bike per il cicloturismo sarà sicuramente un movimento molto ma molto importante perché dà la possibilità anche a chi magari non è un esperto della bicicletta di poter andare sia con la bicicletta da strada che con la mountain bike avere una bicicletta elettrica logicamente aiuta e quindi ma aiuta anche il cicloturismo in sé anche perché ho visto in questo volume che è stato distribuito che promoziona pubblicizza ricorda in molti eventi che c'è anche un'immagine della salita sulle dal piazza che diciamo con una bici normale qualche fatica la si può fare con l'e-bike con l'e-bike diventa molto ci può pensare esatto questo è stato distribuito in quante copie? all'incirca ne erano tantissime copie adesso di preciso qualche migliaio di copie copie è un progetto finanziato in particolare dal consorzio BIM la vallata Feltrina la cosa importante è che è stato pensato come book promozionale di tutto quanto il territorio ed è stato distribuito in tutte le tappe del Giro d'Italia durante il Giro per cui alla partenza negli stand dell'arrivo si trova questo per cui l'invito era l'obiettivo era di comunicare all'Italia intera e a tutti i tifosi che venivano anche dall'Europa e dal resto del mondo a vedere il Giro d'Italia guardate che la provincia di Belluno e la Valbelluno in particolare è vocata per il cicloturismo e qui abbiamo ripreso l'idea del fare squadra per cui ci sono le manifestazioni podistiche le extreme rates tutti questi sì e il connubio con i valori che comunque si trovano nel territorio i musei la storia la cultura l'enogastronomia importantissima insomma pensiamo appena avvena la birra come dire questo sarà un giro a tutta birra di sicuro volevo far notare ma mi pare che sia evidente che in omaggio proprio al Giro d'Italia il sindaco con la giacca e parte lì con la camicia rosa qui difetto io era per non esagiare lasciare tutto lo spazio ai protagonisti complimenti per quello che avete portato a casa per come lo state sviluppando anche perché se ne parla già da molto tempo di questo importante appuntamento e l'invito che possiamo fare è partecipare con il sorriso con la gioia e con molta disponibilità a tutti questi eventi che sono stati organizzati in bocca al lupo agli organizzatori voi siete invitati in tutti questi tre giorni magnifici di ciclismo buona serata grazie a tutti